E' un'altra cosa per te, ti riconosci. Viva del chupacchino! Se tu mi era nata possibilità, dice possibilità. Tu te ne vai a Roma, ho rilevato un'attività, un ristorante. Si fa una da strunzata, quello che deve succedere, succede. A porta! Questa te la chiami carbonara? Ho avuto un'idea, tu vieni a lavorare per me. Levati, così si brucia il fogherà. Decido tutto io, menù, fornitori e brigata. Voglio assoluta autonomia, prendere la cena. Da domani... Benvenuti al nuovo Picchio Blu. Che cosa ha preso il 9? Il piatto è come un quadro, solo che il pittore usa i colori e gli ingredienti. Sì, certo! Non c'è una forma d'arte più pura della cucina. Mi ha detto questo e non andava dal cesso. Ho visto qualche roba roba? Senti, guarda, questo è il mio sogno. Trovatene uno tu e levati dal cazzo. Io un sogno mio non ce l'ho mai potuto avere, capito? Bravo. Prasizio. Per una volta che mi sono fidata, sono proprio una stronza. Fammi capire, prepari una scena a quelli che stanno venendo a ucciderti. Solti per me! C'è solo una speranza che funzioni, se cucino io. C'è solo una scena a che mi sono fidata, capito? Solti per me!